le avventure di pinocchio di carlo colloti letto da libri in pillole capitolo 27 gran combattimento fra pinocchio e i suoi compagni uno dei quali essendo rimasto ferito pinocchio viene arrestato dai carabinieri giunto che fu sulla spiaggia pinocchio dette subito una grande occhiata al mare ma non vide nessun pesce cane il mare era tutto liscio come un gran cristallo da specchio o il pesce cane dov'è domandò voltandosi ai compagni sarà andato a far colazione rispose uno di loro ridendo si sarà buttato sul letto per fare un sonnellino soggiunse un altro ridendo più forte che mai da quelle risposte sconclusionate e da quelle risatacce grulle pinocchio capì che i suoi compagni gli avevano fatto una brutta celia dandogli ad intendere una cosa che non era vera e pigliandosela a male disse a loro con voce di bizza e ora che sugo ci avete trovato a darmi a intendere la storiella del pesce cane il sugo c'è siuro risposero in coro coi monelli e sarebbe quello di farti perdere la scuola di farti venire con noi no non ti vergogni a mostrati tutti i giorni così preciso e così diligente alla lezione non ti vergogni a studiare tanto ma come fai e se io studio che cosa ve ne importa a noi ce ne importa moltissimo perché ci costringe a fare una brutta figura col maestro perché perché gli scolari che studiano fanno sempre scomparire quelli come noi che non hanno voglia di studiare e noi non vogliamo scomparire anche noi abbiamo il nostro amor proprio e allora che cosa devo fare per contentarvi devi prendere a noi anche tu la scuola la lezione il maestro che sono i nostri tre grandi nemici e se io volessi seguitare a studiare noi non ti guarderemo più in faccia la prima occasione ce la pagherai in verità mi fate quasi ridere disse il burattino con una scrollatina di capo e pinocchio gridò allora il più grande di quei ragazzi andandogli sul viso non venir qui a fare lo smargiasso non venir qui a far tanti il galletto perché se tu non hai paura di noi neanche noi abbiamo paura di te riordati che tu sei solo e noi siamo in sette sette come peccati mortali disse pinocchio con una gran risata avete sentito ci ha insultati tutti ci ha chiamati col nome di peccati mortali pinocchio chiedici scusa dell'offesa se no guai a te cucù fece il burattino battendosi con l'indice sulla punta del naso in segno di canzonatura pinocchio la finisce male cucù ne toccherai quant'un zomaro cucù ritornerai a casa col naso rotto cucù ora il cucù te lo darò io gridò il più ardito di quei monelli prendi intanto questo acconto e servalo per la scena di stasera e nel dir così gli appiccicò un pugno nel capo ma fu come si suol dire botta e risposta perché il burattino come era da aspettarselo rispose subito con un altro pugno e lì da un momento all'altro il combattimento diventò generale e accanito pinocchio sebbene fosse solo si difendeva come un eroe con che i suoi piedi di legno durissimo lavorava così bene da tener sempre i suoi nemici a rispettosa distanza dove i suoi piedi potevano arrivare e toccare ci lasciavano sempre un livido per ricordo allora i ragazzi indispettiti di non potersi misurare col burattino a corpo a corpo pensarono bene di mettere mano ai proiettili e sciolti i fagotti dei loro libri di scuola cominciarono a contro di lui i sillabari le grammatiche i giannettini i minuzzoli i racconti del tuar il pulcino della bacini e altri libri scolastici ma il burattino che era d'occhio svelto e ammalizzito faceva sempre civetta a tempo sicché i volumi passandogli di sopra al capo andavano tutti a cascare nel mare figuratevi i pesci i pesci credendo che quei libri fossero roba da mangiare correvano a frotte a fior d'acqua ma dopo aver abboccata qualche pagina o qualche frontespizio la risputavano subito facendo con la bocca una certa smorfia che pareva volesse dire non è roba per noi noi siamo avvezzi a cibarci molto meglio intanto il combattimento si inferociva sempre di più quando ecco che un grosso granchio che era uscito fuori dell'acqua e se era ad agio ad agio arrampicato fin sulla spiaggia gridò con una vociaccia di trombone infreddato smettetela birini e non siete altro queste guerre manesche fra ragazzi e ragazzi raramente vanno a finir bene qualche disgrazia accade sempre povero granchio fu lo stesso che avesse predicato al vento anzi quella birba di pinocchio voltandosi indietro a guardarlo in cagnesco gli disse sgarbatamente chetati granchio dell'uggia faresti meglio assucciare due pasticche di liene per guarire da codesta infreddatura di gola va piuttosto a letto vai e cerca di sudare in quel frattempo i ragazzi che avevano finito ormai di tirare tutti i loro libri occhiarono di lì a poca distanza il fagotto dei libri del burattino e se ne impadronirono in men che non si dice fra questi libri vera un volume rilegato in cartoncino grosso con la costola e con le punte di carta pecora era un trattato di aritmetica vi lascio immaginare se era peso di molto uno di quei monelli agguantò quel volume e presa di mira la testa di pinocchio lo scagliò con quanta forza aveva nel braccio ma invece di cogliere il burattino colse nella testa uno dei compagni il quale diventò bianco come un panno lavato e non disse altro che queste parole oh mamma mia aiutatemi perché muoio poi cadde disteso sull'arena del lido alla vista di quel morticino i ragazzi spaventati si dettero a scappare a gambe e in pochi minuti non si videro più ma pinocchio rimase lì e sebbene per il dolore e per lo spavento anche lui fosse più morto che vivo non di meno corse ad inzuppare il suo fazzoletto nell'acqua del mare e si pose a bagnare la tempia del suo povero compagno di scuola e intanto piangendo dirottamente e disperandosi lo chiamava per nome e gli diceva eugenio povero eugenio mio apri gli occhi guardami perché non mi rispondi non sono stato io lo sai lo sai che non ti ho fatto male credilo non sono stato io apri gli occhi eugenio se tieni gli occhi chiusi mi farai morire anche a me oddio come farò ora a tornare a casa con che coraggio potrò presentarmi alla mia buona mamma che sarà di me dove fuggirò dove andrò a nascondermi oh quanto era meglio mille volte mille volte meglio che fosse andata a scuola perché ho dato retta a questi compagni e sono la mia dannazione e il maestro me l'aveva detto e la mia mamma me l'aveva ripetuto guardati 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 ragazzi miei compagni ma io io sono un testardo un caparbiaccio lascio dir tutti poi vo sempre a modo mio e dopo mi tocca anche scontarle e così da chi sono al mondo non ho mai avuto un quarto d'ora di bene dio mio che sarà di me che sarà di me che sarà di me e pinocchio continuava a piangere a verciare a darsi dei pugni nel capo e a chiamar per nome il povero eugenio quando sentì a un tratto un rumore sordo di passi che si avvicinavano si voltò erano due carabinieri che cosa fai così sdraiato a terra domandarono a pinocchio assisto questo mio compagno di scuola che gli è venuto male e par di sì altro che male disse uno dei carabinieri chinandosi e osservando eugenio da vicino questo ragazzo è stato ferito in una tempia chi è che l'ha ferito io no malbettò il burattino che non aveva più fiato in corpo se non sei stato tu chi è stato dunque che l'ha ferito io no ripete pinocchio e con che cosa è stato ferito con questo libro e il burattino raccattò di terra il trattato di aritmetica rilegato in cartone e carta pecora per mostrarlo al carabiniere e questo libro di chi è mio basta così non occorre altro rizzati subito e vien via con noi ma io via con noi ma io sono innocente via con noi prima di partire i carabinieri chiamarono alcuni pescatori che in quel momento passavano per l'appunto con la loro barca vicino alla spiaggia e dissero loro vi affidiamo questo ragazzetto ferito nel capo portatelo a casa vostra e assistetelo domani torneremo a vederlo quindi si volsero a pinocchio e dopo averlo messo in mezzo a loro due gli intimarono con accento soldatesco avanti e cammina spedito se no peggio per te senza farselo ripetere il burattino cominciò a camminare per quella viottola che conduceva al paese ma il povero diavolo non sapeva più nemmeno lui in che mondo si fosse gli pareva di sognare e che brutto sogno poi era fuori di sé i suoi occhi vedevano tutto doppio le gambe gli tremavano la lingua era rimasta attaccata al palato e non poteva più spiccicare una sola parola eppure in mezzo a quella specie di stupidità e di rintontimento una spina acutissima gli bucava il cuore il pensiero cioè di dover passare sotto le finestre di casa della sua buona fata in mezzo ai carabinieri avrebbe preferito piuttosto di morire erano già arrivati e stavano per entrare in paese quando una folata di vento strapazzone levò di testa a pinocchio il berretto portandoglielo lontano una decina di passi si contentano disse il burattino ai carabinieri che vada a riprendere il mio berretto vai pure ma facciamo una cosa lesta il burattino andò raccattò il berretto ma invece di metterselo in capo se lo mise in bocca fra i denti e poi cominciò a correre di gran carriera verso la spiaggia del mare andava via come una palla di fucile i carabinieri giudicando che fosse difficile raggiungerlo gli aizzarono dietro un grosso cane mastino che aveva guadagnato il primo premio a tutte le corse dei cani pinocchio correva e il cane correva più di lui per cui tutta la gente si affacciava alle finestre e si affollava in mezzo alla strada ansiosa di veder la fine di un palio così inferocito ma non pote levarsi questa voglia perché il can mastino e pinocchio sollevarono lungo la strada un tal polverone che dopo pochi minuti non era possibile di veder più nulla